Non ho problemi di depressione Molti miei colleghi ce l'hanno avuto Un po' non sei alienato Perché sei sempre lì Ma è normale Oltre a Twitch e tutto quello che conosciamo E anche altre cose Perché mi piace divertirmi Guarda io ti dico la verità Di Vaini Di Varini Mi dicevano gli anziani di Mornesi Un podcast che parla di questo La gente che piace a te Doce fredda la mattina Non ti fa le seghe Non ti masturbare Salutiamo Luca Io trombo Mi fa le seghe Mi sveglio a luna Vuoletta alle 6 Andate a fare in culo Che questo ce l'aggiungo io Non c'è bisogno E fai soldi uguale Sì Un monte Quindi non c'è bisogno Non c'è bisogno di farsi Ma perché devo partire Ma chi so E il ziume lì Come stiamo A Ronaldo Perché mi devo buttare Crio di rapiglia alle 7 Ma poi non lo fate Nemmeno voi Perché vi si rattrappisce L'uccello Già vi si rattrappisce Per la bamba Poi figuriamoci Se vi buttate dentro La vasca col ghiaccio La taglieranno Però c'è No no Si taglierà Però non è vero Ragazzi Non intendo dire Che Luca Valori Fa queste cose Dico solo che Mio padre Luca Valori Assoluto Mio padre Assoluto Lui Coso Big Luca Tutti mi garbano loro Però anche te vendi corsi Ho visto Anzi Usi Gurulandia Per vendere corsi Questo è un genio Assoluto È marketing Come diventare ricco Ma tienitelo per te Ma se tu sapessi il trucco Per diventare ricco Vabbè Se vuoi entrare in questo argomento Ci entriamo Ma poi è un casino Perché non se ne esce più No Non se ne esce più Non voglio rovinare Questa puntata Cioè per me si potrebbe fare Ancora puntata Anche se dove ti pare Ma magari riserviamoci Un quarto d'ora alla fine Prima insomma Vediamo Parliamo di Twitch Parliamo di Twitch Però sì Mi interessa anche saperla Il tuo punto di vista Mi chiudo a Riccio Voglio sapere Avessi Luca Valori Lo porterei a cena subito Tu ora A tempestarlo di domande Dove pigli va Anche Dubai Dubai Ma è vero Lì schiavizzano la gente o no Maglia perfetta Per questa puntata Certo sì sì Ma vediamo noi Quanto fattura No A proposito E io te lo stavo per di Prima delle nostre parentesi inutili Che a me converrebbe Di base Fa Twitch E basta Cioè sta a casa Allo studio Fare live E basta Perché guadagnerei di più Rispetto ai viaggi in Giappone Perché viaggi in Giappone Devi prendere Partire Staccare completamente Dieci giorni Fuso orario Quindici ore di volo Gli scali Vi sta dietro a venticinque ragazze Di essere sul pezzo Uno si perde Uno si perde Però quanto ami andare in Giappone Tanto È ok Però Sono più Divertimenti miei Anche fa le carte Nell'editoria Non è che girano Tutti questi sordi Cioè Per diventare Ricco Nell'editoria Forse devi essere padrone Di una grande casa editrice Perché se no Girano pochi soldi Però lo fai più che altro Per divertimento Le carte O i saggi Ora non li faccio Però I miei colleghi Lo fai più che altro Perché ti deve divertire un po' farlo Ti deve appassionare Io lo faccio Perché mi piace Fare le carte È un piacere estremo Fare Twitch ti piace? Sì tantissimo Io avevo un po' una schiavitù Però avevo un po' Perché te tutti i giorni Devi essere lì in live È una schiavitù Se vuoi Traiardare Come si dice Alla mia parte Cioè se vuoi Spingere il più possibile Cioè facendo Dieci Undici Dodici ore di live Per cercare di accumulare Più abbonamenti possibili Però io fai No ti hai un buon palinzesto Settimanale Sì Quattro cinque ore Cinque ore quando mi garba un gioco Perché ci giocherei anche io Fino alle sei Vado avanti fino alle sei Ma è sempre più raro Faccio cinque ore E poi il resto Mi sveglio Sto con la mia moglie Prendo insieme a lei Vado a fare le giratine Esco Faccio le mie robe Fine settimana È per me Per i miei amici No no Io ho una vita equilibrata Infatti sto bene Insomma non ho problemi di depressione Molti miei colleghi ce l'hanno avuto Ce l'hanno Streamer Sì 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 Problemi di Insomma di Un po' non sei alienato Perché sei sempre lì Eh infatti È normale Infatti Ho parlato mille volte Io sto abbastanza bene Non Sono posto L'importante è quello Trovare la propria serenità Sì Come mai ti sei spostato Perché all'inizio Ti parti su YouTube Se non sbaglio Sì sì Ti sposti da YouTube A Twitch Sicuramente per ragioni economiche Sì Apri soldi C'è l'ho sempre detto Sì sì Perché non campavo più Cioè facevo due video al mese Circa Era un video estremamente lunghi E elaborati Sì E mi ci voleva tanta documentazione Non avevo nessuno Ora È stata un po' sdoganata La cosa su YouTube Degli autori Cioè ora ci sono Degli autori Che aiutano certi streamer Per esempio Credo Esciai Che è un grande Anche Barbascura Che è un altro grande Di YouTube Hanno autori Montatori C'erano proprio una Una factory Capito E quindi È top Perché comunque Velocizzi il processo Sei sempre te A capo della cosa Ma comunque Vai più veloce Io facevo tutto Per il conto mio E guadagnavo 80 euro 70 euro Non me lo riordo Le cifre precise Ma non se andava Sopra i 100 E io non potevo più campare Perché iniziavo a crescere Come età Anagraficamente Volevo farmi una famiglia Volevo comprarmi casa E non potevo E allora Ho detto ok Devo trovare una soluzione E per fortuna Twitch mi è venuto in aiuto Io Twitch ci volevo Arsa Un mille euro Così per campare Normale E poi è scoppiato tutto E adesso Ho deciso di reinvestire Quello che guadagno O in mie passioni Oppure in altri Oltre a Twitch